Ora procediamo alla semina del fagiolo rampicante. Varietà mangia tutto, quindi sono quei fagioli che conoscete di cui si mangia tutto il legume. Le ragazze ora stanno disponendo il filo per poter fare il solco diritto e poi seguirà la semina. La terra era già stata lavorata con una frangizzollatura superficiale, fa il solco lungo il filo. La profondità di semina è circa 10 centimetri. Dalla scatola abbiamo le notizie che ci interessano, quindi la distanza sulla fila, facendo più file ovviamente, da 80 a 100 centimetri, la profondità 3 centimetri e l'altezza definitiva della pianta poi sarà di circa 200 centimetri. La distanza tra un seme e l'altro si prende con un sistema molto semplice. Se si fa la misura, questo è un trapiantatoio. Ecco, i semi all'interno sono sempre trattati, quindi vanno toccati con i guanti, perché contengono delle sostanze che servono per contenere gli attacchi fungini e anche quelli degli insetti. Quindi, assolutamente, non toccate mai i semi direttamente senza guanti. Spesso sono anche colorati, proprio per rendere evidente che ci sono delle sostanze per cui non devono essere, per esempio, usati, nel caso dei cereali, ma anche dei legumi, per alimentare gli animali, per esempio, uno potrebbe l'orzo somministrarlo agli animali e invece è orzo da seme trattato e quindi potrebbe procurare delle intossicazioni. Quindi i semi delle bustine sempre vanno toccati con i guanti. Allora, la profondità abbiamo detto circa 10 centimetri, quindi più o meno la profondità che abbiamo messo nel solco e tra un seme e l'altro 15-20 centimetri che noi regoliamo con il trapiantatoio. La distanza uniforme è importante non solo perché alla vista è più bellina, è una cultura più ordinata, ma soprattutto perché nella prima fase di sviluppo, ma anche dopo, le piante fanno una grande competizione uno dall'altra e quindi se le mettiamo in condizioni diverse non avremo poi un risultato ottimale nel raccolto perché avremo una quantità, ma soprattutto una qualità diversa. Quindi è importante mettere queste piante tutte alla stessa distanza. Abbiamo detto che le distanze sono due, questa che sta facendo ora è la distanza sulla fila, mentre poi c'è anche la distanza tra le file che ovviamente sono maggiori, in questo caso un metro, se noi facessimo un'altra fila di piantumazione, un metro di distanza che serve sia per far passare meglio la luce, ma anche per far passare l'operatore o provvedere a una sarchiatura, a una concimazione, quindi ci deve essere la possibilità di passare tra le fila. Le semine primaverili, così a pieno campo, hanno un'energia germinativa molto elevata e poi queste piante che stiamo seminando sono leguminose, quindi hanno una bella energia. Circa 10 centimetri di terra ritornerà sopra al seme, più o meno, data dalla profondità del solco. L'erba, le zolle di erba che si vedono in superficie, sono positive perché fanno una sorta di pacciamatura protettiva e poi andranno incontro a decomposizione e quindi fanno sostanza organica per la concimazione.